Ciao a tutti ragazzi, io sono Giulia e benvenuti in questo video ASMR. Molti di voi mi hanno chiesto di provare a fare questo tipo di video ed è per questo motivo che oggi lo testeremo insieme. Nel caso questa tipologia di video vi dovesse piacere scrivetemelo qua sotto nei commenti e così li farò più spesso. Comunque io direi di iniziare subito. Oggi per iniziare questo video ASMR utilizzeremo i Tangle che avevamo già visto in un video di Ticola perciò se siete curiosi vi consiglio di andare a vedere quel video. I Tangle come abbiamo già visto si dividono in Classic e Crazy e come potete vedere io ho due Classic e un Crazy. Ok, io direi di partire subito dal primo Classic. Il primo Classic che vedremo è questo che come vedete ha i colori del blu, giallo e azzurro. È abbastanza semplice ma il suono che produce è molto rilassante. Eccolo qui. Sentite che bel suono produce. Ok, adesso passiamo al secondo. Tangle Classic che in questo caso è il mio preferito e sarebbe appunto questo qui. Come potete notare ha i colori bianco e azzurro e poi ha questi pezzi particolari che sembrano contenere dell'acqua. In questo caso il mio è turchese. Anche in questo caso il rumore che produce è molto rilassante. Anche in questo caso il mio è freddo. Ok, e infine passiamo all'ultimo dangle, quello crazy, che è a differenza di quello classic, oltre ad avere più colori, ha anche più particolari, infatti ci sono questi pezzi che presentano dei pallini, per esempio questo sembra quasi intrecciato su se stesso, quindi insomma sono molto particolari e servono tutti per produrre dei suoni più rilassanti. Eccolo qui, in questo caso i colori sono giallo, fucsia e celeste, e anche in questo caso c'è questo pezzo trasparente che sembra contenere all'interno dell'acqua. Ok, adesso proviamolo. Ok, adesso proviamo. Davvero molto rilassante. Perciò ragazzi, questo è il mio primo video ASMR con i tangol. Se questo video vi è piaciuto scrivetemelo nei commenti e io ne farò altri. Comunque per supportare questi video ASMR vi ricordo di lasciare un like e se volete iscrivetevi anche al mio canale. Inoltre vi ricordo di seguire anche i miei profili Instagram, dei quali lascerò nella descrizione di questo video il link. Infine, vi ricordo anche di seguire la mia pagina di Facebook che si chiama Giulia Guerra 03, della quale lascerò sempre nella descrizione del video il link. Bene, noi ci vediamo alla prossima e spero che questo video vi abbia rilassato. Ciao! 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 Ciao!